Azioni è un festival diffuso che promuove la rigenerazione del territorio attraverso le arti e la creatività dei giovani. Il festival si svolgerà nella primavera 2022 a Este, nella bassa padovana, coinvolgendo giovani dai 15 ai 25 anni. Gli eventi previsti saranno rivolti a tutti i cittadini che amano l'arte e che vogliono riscoprire le bellezze locali. L'associazione Fantalica, organizzatrice del festival, ha pensato a questa rassegna come un'occasione per favorire un nuovo modo di vivere gli uomini naturali e cittadini del territorio della bassa padovana, che meritano di essere valorizzati attraverso il protagonismo dei giovani. Crediamo infatti che proprio grazie alle idee delle nuove generazioni possa migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Il festival rientra in un progetto biennale dal titolo Spazio ai Giovani. Iruzione artistica in città e dintorni, iniziato nel 2020, è suddiviso in tre fasi, attraverso le quali è stato e sarà possibile coinvolgere gruppi giovanili locali, enti pubblici e privati del luogo. Il festival permetterà di dare voce a tutte le idee creative emerse, concretizzandosi in percorsi, eventi, inaugurazioni, opere d'arte permanenti per la bassa padovana. I protagonisti saranno gli artisti e i giovani da loro coinvolti. Ciao a tutti, sono Caroline, visual artist e street artist fadovana. Faccio parte del progetto Spazio ai Giovani di Fantalica, sono una degli artisti e sono qui per dirvi donate, 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 donate per aiutare Fantalica a contribuire al miglioramento del territorio. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Alberto e sono uno dei vincitori del concorso Sfili. Quello che mi sento di dirti oggi è dono anche tu e rendi il tuo contributo prezioso per il nostro territorio. Grazie a tutti!